Oltre 500 carabinieri a bordo di decine di mezzi hanno pattugliato le principali strade e l'area a maggior criticità della provincia con controlli a tappeto. Questo al fine di garantire la sicurezza e il rispetto della legalità. È il dispositivo messo in campo dal comando provinciale di Nuoro, denominato Ferragosto Sicuro, che ha predisposto un piano di sicurezza per i cittadini e i turisti che si trovano nel Nuorese. L'arma ha messo in campo tutto il personale disponibile dalle 77 stazioni di una tenenza presenti sul territorio provinciale dei nuovi nuclei radiomobili delle compagnie e del nucleo investigativo, oltre alle squadriglie carabinieri. L'area ritenuta a maggior rischio sono state presidiate dai carabinieri uniformi e in abiti civili. Servizi che non hanno pregiudicato, sottolinea il comando provinciale, le altre ordine di attività investigativa e preventiva dell'arma. Le pattuglie dei nuclei radiomobili sono concentrate particolarmente sul controllo del tasso alcolemico degli automobilisti e dei motociclisti con l'utilizzo di precursori ed etilometri. Questo al fine di prevenire i sinistri stradali. I carabinieri del comando provinciale in Nuore dall'inizio della stagione estiva hanno elevato 90 sanzioni per guida in stato di abbrezza, di cui 15 solo nella giornata di ferragosto. Importanti risultati raggiunti dai carabinieri del comando provinciale nella lotta alla criminalità comune. Nel solo mese di agosto le persone arrestate sono state 10, oltre 120 quelle denunciate in stato di libertà.